Deve essere all'altezza del ginocchio per portarla bene, se la è più alta, non è un problema, non la porti comunque la lunga, non fai più fatica, o sei troppo alto o sei troppo basso, capito? Quindi quando tu hai una lunga la tua, un rapporto la tua, tu fai metà fatica. ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.